Musica Bentrovati a questa nuova puntata di Politic Caffè, vi presento l'ospite in studio, si tratta di Alessandra Contigiani, bentrovata. Grazie. È la candidata alla presidenza della regione Marche con la lista Riconquistare l'Italia, la prima volta che viene qui negli studi di Politic Caffè, quindi andiamo a presentare Alessandra Contigiani e a spiegare ovviamente le motivazioni della sua scelta di candidarsi ad un ruolo così importante per la nostra regione. Sì, allora io ho 38 anni, sono laureata in Economia dello Sviluppo con l'Ode alla Sapienza, l'Università della Sapienza di Roma. Ho lavorato per diversi anni nella cooperazione dello sviluppo finché non è successo il fattaccio di diventare mamma e diventando mamma proprio nel periodo della grande crisi degli anni 2000 sono stata espulsa dal mondo del lavoro. Mi sono riqualificata, tornata a studiare e ho aperto un nido domiciliare, un nido di famiglia, quindi adesso attualmente lavoro come piccola imprenditrice. Mi sono candidata con Riconquistare l'Italia perché? Perché sono stata sempre molto attiva dal punto di vista dei diritti politici, dei diritti anche sindacali, soprattutto per quanto concerne le lavoratrici, che sono altamente penalizzate anche purtroppo nei confronti dei lavoratori del sesso opposto. Purtroppo quello che ho potuto vedere e constatare è che quando andavo a votare, io avevo questa grande voglia di partecipare, di partecipazione democratica, mi trovavo sempre a votare il meno peggio, stringendo il naso, perché non c'era nessun tipo di partito che corrispondesse esattamente a quello che era il mio pensiero. Il mio pensiero semplicemente è quello di portare la Costituzione, quanto previsto la Costituzione del 48, ad essere vivo, ad essere reale e concreto nella vita di tutti noi. Ho visto che questa realtà purtroppo non esisteva e quando ho incontrato il fronte sovranista italiano, che è il partito che è legato alla lista di Riconquistare l'Italia, è stato un amore a prima vista perché leggendo lo statuto, leggendo i documenti programmatici, ho visto che essenzialmente era tutto quello che serviva, secondo me, per il benessere del popolo italiano, per riportare a una condizione di benessere tutti quanti noi cittadini e quindi è stato imprescindibile aderire a questa realtà. Mi è stata data una forte responsabilità, io non sono una comunicatrice, non sono una politica da quel punto di vista, quindi mi trovo anche un po' in difficoltà, tante volte non sono un'attrice, non recito, però vorrei tanto che passassero i contenuti, il programma, la determinazione e l'onestà, l'onestà attraverso le mie parole, perché quello che manca probabilmente da tanti, troppi anni, è una classe politica onesta, che abbia al cuore l'interesse dei cittadini ed è quello che vogliamo fare noi. Noi ripartiamo dalla Costituzione del 1948 per portare effettivamente diritti e benessere a tutti quanti. Il lavoro è per noi il primo diritto, il primo diritto perché la Costituzione lo garantisce come tale, senza lavoro, senza la possibilità di avere un futuro, una stabilità economica, è impossibile partecipare alla vita democratica del Paese. E quindi tutto questo non deve prescindere, tutta l'azione politica di qualsiasi partito, governi poi la nostra regione, come poi a livello centrale, non può prescindere dal rafforzare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. E questo sarà per noi un punto nevralgico. Per noi il lavoro è sia lavoro privato, quindi sostenere le imprese perché stabilizzino i lavoratori. Quello che abbiamo visto purtroppo negli ultimi mesi, negli ultimi anni, ma in particolare negli ultimi mesi, è stata un'eccessiva precarizzazione del lavoro. Le ultime assunzioni del mese di luglio sono state per il 73% assunzioni precarie. Tutto questo purtroppo incide pesantemente sulla qualità di vita, sull'aspettativa della costruzione di un futuro da parte dei giovani, da parte delle famiglie. assolutamente non si può prescindere da una modifica, in senso di dare maggior sicurezza, maggiori garanzie a tutti quanti i lavoratori. Ma anche per le imprese, perché se noi andiamo dal punto di vista della domanda interna, se non rafforziamo il lavoro, quindi i lavoratori, la posizione salariale, quindi se i lavoratori non hanno la possibilità economica di comprare, di acquistare i beni e i servizi, poi le stesse imprese, dal punto di vista della domanda interna, soffrono. Ed è quello che abbiamo visto. Abbiamo visto chiusure di centinaia e centinaia di imprese nelle marche, imprese agricole, manifatturiere, commerciali, edili. Quindi è tutto legato, è tutto strettamente connesso. Ecco, ha chiarito più volte di non essere un movimento né di destra né di sinistra. Sulla sua pagina Facebook ritroviamo un po' un riassunto di quello che è il progetto politico di riconquistare l'Italia. Non è una lista civica, non è un insieme di vecchi partiti e nuovi interessi, non è una lista di delusi, non è una lista civetta della destra o della sinistra. è un progetto politico ideato nel 2009, organizzato nel 2012 e avviato nel 2016 come un vero e proprio partito popolare. Abbiamo visto che quando si parla di economia si scalda parecchio perché è il suo campo. E quindi perché dico questo? Voglio parlare anche dei fondi europei, dell'utilizzo dei fondi europei da parte della nostra regione. L'attuale amministrazione di centro-sinistra vanta un'eccellenza nella sua capacità di gestire e spendere questi fondi. Cosa ne pensa? Io penso che a monte non dovrebbero esistere i fondi europei perché l'adesione all'Unione Europea, questi sono dati scientifici, evidenze, statistiche, da 30 anni ci ha portato a una crescita economica pari a zero, a una riduzione continua dei servizi, dei servizi pubblici, quindi taglia la sanità, taglia l'istruzione, alle infrastrutture e così via. E tutto questo ha comportato un peggioramento della qualità della vita dei cittadini. Quindi sostanzialmente l'adesione all'Unione Europea è quella che noi fortemente contestiamo. Noi siamo il partito del recesso dei trattati dell'Unione Europea, puntiamo a livello nazionale ad uscire dall'Unione Europea. Questo non significa non collaborare, non cooperare con altre nazioni, ma come nazione forte che abbia una propria moneta, che possa fare politica economica ed industriale e non dipendere da nessuno. Noi siamo gli scolaretti, i primi della classe nell'Unione Europea per il rispetto delle regole e dei vincoli imposti da Maastricht, quando ci sono altre nazioni come la Germania, come la Francia, che giustamente danno priorità alle necessità del popolo, pur essendo nei cosiddetti vincoli di Maastricht, sforandoli continuamente. Noi non lo facciamo, addirittura abbiamo inserito il pareggio di bilancio nella Costituzione italiana, modificando l'articolo 81 della Costituzione stessa, quindi per dire che la nostra classe politica dirigente da 30 anni a questa parte non ha assolutamente intenzione di cambiare le regole in gioco. E le regole in gioco vuol dire sostanzialmente sottostare a vincoli economici molto pesanti per i nostri cittadini, sostanzialmente vuol dire averci venduto a una classe politica, a una classe finanziaria, capitalistica, ultraliberista, europeista, che non ha assolutamente a cuore il benessere dei cittadini, ma vuole fare profitto sulle tasche dei cittadini. Se noi continuiamo con la logica del voto utile, votando il centrodestra, il centrosinistra, il Movimento 5 Stelle, che non hanno in nessun modo messo in discussione tutto l'apparato europeista di cui facciamo parte, allora vuol dire che noi spendiamo il nostro voto in modo inutile. L'unico voto utile è ripartire dai partiti popolari, dai partiti che partono dal popolo e hanno a cuore il benessere del popolo e della nazione. Quindi fare un voto di coraggio, aderire a un programma politico, di scegliere un programma politico e non a fare un voto di protesta, come purtroppo ultimamente si sta facendo da troppi anni. Veniamo a un altro tema caldo di questa campagna elettorale, ma ahimè è un argomento scottante per la nostra regione, che è quello delle infrastrutture. Parliamo del porto, dell'interporto delle Marche, dell'aeroporto regionale delle Marche, che spesso non dialogano molto bene tra loro. Cosa si può fare per migliorarle? Io credo che ci sia una volontà politica di emarginare l'entroterra. Emarginarlo l'abbiamo visto anche per quanto riguarda la mancata, ad esempio inizialmente previsione di un'uscita della superstrada, visto quindi escludere totalmente tutte quelle zone che sono state colpite duramente dal sisma. Lo vediamo anche nella mancata ricostruzione, nel rallentamento è tutto connesso e ovviamente le infrastrutture fanno parte di questa volontà politica di emarginare l'entroterra nei confronti della costa. Noi quello che proponiamo è innanzitutto tornare a un governo nazionale delle infrastrutture, quindi le decisioni devono essere prese dall'alto per il benessere di tutti i cittadini. Ci deve essere un'integrazione forte tra lo sviluppo ferroviario e lo sviluppo stradale, ma per quanto riguarda i trasporti su gomma, noi prevediamo più che altro una manutenzione delle strutture esistenti, riapertura di tutte quelle arterie lesionate messe veramente duramente alla prova in seguito al sisma, miglioramento dei servizi stradali esistenti, e ovviamente il nostro obiettivo primario sarebbe stato la nazionalizzazione totale anche delle autostrade per l'Italia, purtroppo un'occasione mancata da questo governo e quindi assolutamente insistere sul miglioramento di quello che c'è, implementare tutto quello che è la presenza di infrastrutture verso l'entroterra che aiuti e sostenga le comunità dell'entroterra marchigiano che sono sempre più abbandonate. Per volontà di un ben preciso progetto politico, a quanto pare. Come faccio sempre in questa trasmissione, lascio gli ultimi minuti per un invito al voto. Spieghiamo agli elettori, un po' l'ha fatto prima, spieghiamo agli elettori come mai, perché il 20 e 21 settembre dovrebbero barrare il simbolo, riconquistare l'Italia e votare per Alessandra Contigiani. Allora, noi chiediamo all'elettorato di fare una scelta coraggiosa, di fare una scelta politica, di prendere posizione, di spendere il proprio voto in modo veramente utile. Quindi di votare non aderendo al partito unico liberale, quello che chiamiamo noi, da centrodestra al centrosinistra, passando per il Movimento 5 Stelle. Il nostro progetto, quello di riconquistare l'Italia, è di ripartire da un partito popolare, che sia che nasca dal popolo e sia servo del popolo. Un partito che ha come programma, al centro il proprio programma politico, la Costituzione del 48, Costituzione Socialdemocratica, la base del nostro ordinamento giuridico, messa duramente alla prova dall'adesione ai trattati di Maastricht, dall'adesione scellerata all'Unione Europea, operata da una classe politica che da 30 anni è sempre la stessa, la stessa sotto differenti vesti, che non ha a cuore assolutamente il benessere cittadino, che ci ha venduti all'Europa, e lo possiamo vedere sia dalla precarizzazione del lavoro, quindi salari sempre più bassi, posizioni lavorative sempre più precarie, pensioni veramente sempre più risibili, quindi hanno svenduto anche il nostro futuro. Adesso noi viviamo grazie al risparmio delle nostre passate generazioni, dei nostri nonni che hanno lavorato e messo da parte i soldi con la liretta, di cui tutto il mondo ride, ma che ci ha permesso di comprare le case, le auto, di avere le pensioni, di aiutare i nostri figli a studiare e a resistere ad esempio in periodi di crisi particolarmente duri come l'emergenza Covid. Quindi ripartiamo dal popolo, dalla socialdemocrazia, e tutto questo vuol dire aderire a un progetto politico, non basta votare il meno peggio tra i candidati presenti, basta votare per antipatia o simpatia, o seguendo degli schemi del passato, credendo che esistano ancora centrodestra o centrosinistra. Tutto questo non esiste, sono bugie. Basta pensare che l'Europa intervenga nei nostri confronti, dandoci, gettandogli l'ancora di salvezza. I fondi europei sono soldi italiani, italiani che noi diamo all'Europa per finanziare, poi per carità realtà come la Polonia, realtà dell'est europeo, che sono debitrici e debitori nei confronti dell'Unione Europea. Ma noi siamo creditori netti e i soldi che ci tornano indietro per il sisma, per finanziare la cassa integrazione, finanziare le infrastrutture, le strutture ospedaliere, eccetera, sono soldi nostri che richiediamo indietro, pagando gli interessi, ci ritornano indietro in minima parte, tra l'altro, questi fondi che diamo, e attraverso dei vincoli di spesa pubblica che ridurranno la popolazione in pochi anni alla situazione, al bagno di sangue in cui verte la Grecia. Attenzione, l'unico voto utile è quello per la sovranità popolare. Riconquistiamo le Marche per riconquistare l'Italia. È stata chiarissima, io ringrazio Alessandra Contigiani, candidata alla presidenza della Regione Marche, con il movimento Riconquistare l'Italia, fronte sovranistra e sovranista italiano. Grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a voi. E a voi do appuntamento alla prossima puntata di Politiccafè. Arrivederci.